Nel successo è niente, nel senso che comunque la nostra posizione rimane esattamente la stessa da sempre. Nella dinamica parlamentare, diciamo che gli emendamenti che sono stati presentati, sia quelli segnalati sia quelli non segnalati, sono in attesa di una già preannunciata iniziativa del Governo. Il Governo, sulla questione della Bolkestein, ha deciso di metterci la faccia e quindi siamo tutti in attesa che si riesca a provvedere in maniera strutturale alla nostra vicenda che penalizza i nostri balneari. In che forme? Se già si sapete. Se le avessimo sapute le avremmo già annunciate, quindi siamo in attesa che il Governo tiri giù le proprie carte.